Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi è lunedì 7 agosto e questa è la rassegna stampa sul canale 17 come tutte le mattine dalle 7.30 poi in replica fino alle 8.30 avremo poi un'altra replica alle 9.10 alle 11.15 e poi alle 13.30 questi sono gli appuntamenti con occhio ai giornali che troverete sempre disponibili però anche disponibile sul sito internet occhianotizia.it allora cominciamo dal santo del giorno vediamolo subito il santo di oggi è San Sisto II e compagni, San Sisto II è stato un papa, i compagni sono martiri che hanno dato il sangue per la fede cristiana, il sole è sorto alle 6.02 tramonterà alle 20.26, il cielo oggi sarà sereno o poco nuvoloso per chi si aspettava in queste ore un po' di pioggia, un po' di refrigerio almeno in provincia di Pesorubino è andato deluso perché non c'è stata questa pioggia, neanche la rinfrescata che tutti attendono con temperature che però da oggi andranno in diminuzione, i venti saranno infatti settentrionali, qualche locale pioggia e rovescio forse brevi temporali sui monti Sibillini. Per la giornata di domani avremo ancora 8 agosto ancora cielo sereno un po' con nuvoloso con possibili locali rovescio temporali, temperatura in ulteriore lieve diminuzione. Dove saranno questi temporali non è dato a sapere però diciamo che domani potrebbe esserci questa possibilità così come potrebbe esserci nel cuore della settimana che stiamo per iniziare intorno a mercoledì giovedì, ma di questo cercheremo di darvi qualche dettaglio in più nelle prossime ore. Intanto il resto del carino questa mattina torna sulla tragedia, se vogliamo il disastro idrogeologico, il disastro ambientale, perché di fatto di disastro si tratta del San Bartolo dopo le fiamme dell'altra notte. Allora la scorsa notte è andato a fuoco un altro ettero oltre a quelli già andati distrutti. Sul San Bartolo ieri c'è stato il rituale delle fotografie, quello che purtroppo agli italiani piace tanto, cioè andare a fotografare là dove c'è la tragedia, quando c'è il terremoto, quando c'è l'alluvione e anche quando brucia per esempio la falesia del San Bartolo. È successo anche nella giornata di ieri. Mentre c'è l'intervista, la vedremo tra poco, che il carlino ha fatto all'uomo, a quell'agricoltore, che purtroppo tagliando l'erba ha fatto scatenare tutto l'inferno a causa di una scintilla che è uscita dal trattore dopo che ha toccato un sasso, una pietra. Poi nel carlino di oggi c'è anche la notizia della filiale, ex filiale di Banca Italia, all'inizio del corso, che va all'asta. Dentro ci sono quattro appartamenti d'oro. L'edificio di Via Rossini, risalente al 1964, ha una destinazione residenziale per due piani e servizi per altri due. Ci sono degli interessamenti, ma non delle vere e proprie offerte. Poi all'interno troverete notizie che riguardano la Capitaniera di Porto, gli interventi effettuati ieri, tra cui uno importante per soccorrere una donna incinta che era su una barca finita in panne, con i motori in avaria. Sono scattati ovviamente i soccorsi, così come troverete a pagina 4 la notizia che in Via San Francesco a Pesaro sono state tolte le barriere, ci sono stati lavori per diversi mesi, lavori che però non sono finiti. Allora, andiamo a vedere adesso invece questa notizia che riguarda quel pensionato che tutto sommato non ha fatto nulla di male, stava facendo cose che fa da 30 anni, cioè tagliare l'erba. Perché in questo periodo? Lui dice, io purtroppo qui nel Parco San Bartolo non possiamo tagliare l'erba prima del 31 luglio perché c'è un regolamento che lo vieta, un regolamento del parco che serve chiaramente per salvaguardare gli animali che lì abitano fino a più o meno a fine di luglio e quindi io ho dovuto farlo, questo taglio dell'erba, soltanto adesso, anche con temperature purtroppo proibitive. Allora, che cosa dice lui? Cosa dice questo 68enne che abita da 30 anni in questa villa di campagna che è situata dentro la sua proprietà agricola? Ebbene, tagliavo solo l'erba nel campo, le fiamme sono divampate in un attimo e poi dice, noi siamo distrutti, io e la mia famiglia siamo distrutti, ho aiutato i pompieri tutta la notte, il problema è stato quando le fiamme grazie alla chioma di un albero hanno oltrepassato la strada, la carreggiate e hanno poi potuto scorrere libere lungo tutta la falese sottostante, altrimenti, come poi è avvenuto anche tantissime altre volte, non è che è la prima volta che cadono incendi da quelle parti, però solitamente rimangono dalla parte dell'entroterra, invece questa volta hanno superato la strada e poi si sono ampliate su tutta la falese. Poi c'è invece la notizia, con tanto di documentazione fotografica, di Trilli, che è una tartaruga che è stata liberata in mare dopo le cure, il tuffo verso le libertà e il rilascio della tartaruga è uno spettacolo, la baia sempre appesano anche tanti bambini per salutare la caretta caretta. Da Fano invece è la notizia ieri alla festa del mare del rientro, del ritorno del nautofono. Il nautofono è quello strumento che quando c'è la nebbia si attiva e fa quel suono, emette quel suono che serve per i marinai, perlomeno serviva nell'antichità, nell'antichità, insomma nel passato, ai marinai per rientrare in porto quando c'era la nebbia. Oggi ci sono le strumentazioni, ci sono i satelliti, GPS, ci sono tutte queste strumentazioni qua, però i marinai, insomma, la sanno lunga e quindi si fidano a volte più di questi strumenti che della tecnologia all'avanguardia che abbiamo oggi. L'annuncio del Sindaco Sere della festa del mare, poi ha consegnato anche le medaglie, riconoscimenti ai lupi di mare del 1935, il Carlino fa anche dei nomi, sono stati premiati Mario Falcioni, Alfredo Gaggi, Maurizio Micioli ed Evandro Tomassoni. Poi ce ne sono altri, ma vi lascio la lettura del giornale. Allora, andiamo invece adesso sul Corriere Adriatico. Anche il Corriere apre questa mattina con il San Bartolo, nuovi roghi, Ricci chiede donazioni, Ricci il Sindaco di Pesaro, sopra luogo con la Regione per ripartire. La Cenere finisce in mare tra i bagnanti, dopo il devastante rogo il San Bartolo prova a ripartire, lo fa oggi con un vertice a Focara, a Fiorenzola di Focara, dove sono stati convocati Regione, Comune, Protezione Civile e le Forze del Soccorso. Saranno tutti nei borghi di Fiorenzola e Castel di Mezzo per affrontare l'emergenza e programmare interventi più strutturali in terminata la prima fase di bonifica. Questo è l'argomento principale sulla prima pagina del Corriere Adriatico. Poi all'interno, San Bartolo, nuovi roghi e paura, ma insieme possiamo ripartire. Oggi l'assessore regionale sarà a Fiorenzola di Focara, mentre il Sindaco annuncia un'iniziativa di solidarietà legata all'evento delle candele, candele che ci saranno nei prossimi giorni per la notte, in occasione della notte di San Lorenzo. Ma il Corriere giustamente ricorda anche l'altro incendio bruciato un mese fa, devastante, certamente in termini di ampiezza molto più grande e più devastante di quello di Fiorenzola della Falesia del San Bartolo. Adesso ci sono cooperative di giovani per aiutare le cesane, c'è un progetto per il vasto bosco che è andato bruciato un mese fa, 230 ettari di bosco, quindi parliamo del doppio dell'area interessata rispetto al San Bartolo. Dicevamo della notte delle candele, fiammelle magiche tra colline e mare, ecco come è andata la sera più romantica, da candele a candelare alla notte di San Lorenzo, l'impegno della proloco è garanzia di successo. L'appuntamento è previsto per il 10 di agosto, giovedì prossimo, grazie all'organizzazione della proloco di Candelare, che organizza ormai il noto e famoso candele a candelare durante il periodo natalizio. Poi ci sono sulla pagina 5 del Corriere le notizie che riguardano gli hotel multati, che adesso si stanno adeguando per ottemperare l'ordinanza sul decoro urbano. Dopo l'hotel Vienna anche lo sporting interverrà sulla facciata. L'Adria ha richiesto una proroga al Comune di Pesaro per predisporre delle soluzioni tecniche e migliorative. Poi invece sulla pagina di Fano del Corriere al Porto torna il nautofono, in autunno l'atteso dregaggio, i due annunci del sindaco alla cerimonia in memoria dei caduti del mare presentato alla Regione, il progetto delle darsene, lo strumento acustico invece amato dai fanesi appunto tornerà nel mese di ottobre. Il grande spettacolo dei 400 sportivi alla notata lunga vincono due atleti di Riccione, il fanese Filonzi invece è quarto. Summer Night, c'è stato un evento nei giorni scorsi alla Palazzina Sabatelli, Summer Night Black and White evoca i veglioni del Carnevale. In questa immagine l'animatore della serata Luciano Cecchini, ex presidente dell'ente carnevalesca che per tanti anni ha organizzato il Carnevale invernale e Cecchini tiene coeso il suo gruppo alla Palazzina da spettacolo e lotteria. Un format cecchignano che ormai tutti conosciamo e che comunque è garanzia certo di successo. Dalla Valle del Cesano, oggi lunedì ci sono gli inserti sportivi, quindi le pagine di cronaca locale sono come di consueto lunedì un po' più ristrette e limitate. 9 ore non stop di musica domani per l'estate dell'amore, San Lorenzo chiama sul palco 11 band, San Lorenzo in campo e oltre 40 artisti a partire dalle ore 17, qui troverete tutto il programma. Da Senigallia invece la cronaca, drink al bar, poi fugge con la cassa, un ragazzino è stato inseguito dal titolare, un 17enne preso dalla polizia dopo una colluttazione, il commerciante è finito al pronto soccorso. Poi invece, sempre da Senigallia, la tragedia del pediatra pacifista che si è lanciato sul Monte Cuco col parapendio ed è morto a 54 anni. Paolo Simone, padre di quattro figli, perde la vita sul Monte Cuco, era in compagnia di due amici. La mia compagna è fuggita con il bambino, sempre da Senigallia, è in una setta di mostri, voglio mio figlio, l'appello disperato di Stefano Cappiello da Houston. I suoceri sono stati interdetti addirittura per pedofilia, una storia che potrete leggere sulle pagine di Senigallia, ho speso 50 mila dollari per proteggere il mio bambino dai rischi e lui dice adesso ho bisogno di aiuto. E poi da Fabriano, fiamme a cancelli, inferno nel bosco, superstrada chiusa, treni in ritardo, più di quattro ore per domare l'incendio. Anche due incidenti in una domenica davvero da incubo. L'ultima pagina invece è quella da Falconara, dove vedete in autostrada, in A14, auto in fiamme, traffico chiuso e code all'altezza di Monte Marciano, mentre sempre da Monte Marciano il problema dell'elemosina e dei bivacchi, tutti adesso contro i Rom, gli insulti razzisti e la difesa del sindaco. La rassegna stampa e la lettura dei giornali termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che a questo numero di telefono che vedete insomma in pressione potete come sempre inviarci le vostre segnalazioni, le vostre richieste, mentre questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti.